Da questa mattina alle 7 fino alle 18 di domenica 1 aprile su via Caracciolo e via Partenope è in vigore la maxi isola pedonale voluta dal comune per la Coppa America di Vela. L'assessore Anna Donati invita quindi i cittadini a lasciare a casa l'auto perché raggiungere il lungomare in questo weekend sarà possibile soltanto in autobus funicolare, in taxi, con la bici oppure a piedi. E per agevolare gli spostamenti nell'area di Chiaia l'amministrazione cittadina dispone il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico. In particolare 5 navette collegheranno con una frequenza di 10 minuti Piazza Municipio a Piazza San Nazaro. Le linee ANM 154 e 151 serviranno dalle 8 alle 20 ogni 10-12 minuti la tratta a parcheggio Brin Piazza Vittoria e Garibaldi Piazza Letecchio. Sarà inoltre potenziato il servizio di taxi ed ammesso eccezionalmente nelle giornate di sabato e domenica il trasporto gratuito di biciclette sulla linea 1 della metro. Nessun impedimento è previsto invece per i motoveicoli che potranno raggiungere la riviera. La ZTL straordinaria che dal 5 al 15 aprile sarà in vigore ininterrottamente per garantire lo svolgimento delle gare sarà presidiata dagli agenti della Polizia Municipale. Durante il fine settimana sarà inoltre prolungato il servizio della funicolare di Chiaia, potenziati i servizi notturni per chi vuole vivere la movida e chi non fosse in grado di rinunciare all'automobile potrà accedere all'isola pedonale prenotando in anticipo un posto auto nei garage e parcheggi all'interno dell'area.